Enesima visita, è andata a visita da Spi che fa? Non lo so, non mi basta cercare la presa, non lo so, non lo so, non lo so. 12.2? Perché che cosa? Perché 12.2? Eh, va bene, si, non è, ma ti faccio 50 visita senza niente, come la fanno con me. Tutto è accattato il compito, ora e ora sono mia moglie, c'è ogni vado, ogni vado a tenere un problema, non c'è più senza niente. Ma questo funziona, eh? Eh, la fanguta, no, piacevole. Ma che è un numero qua? Non mai cominciare a... non sapevo il signor, no? No, no, perché questo numero è a cadere. Vabbè niente. Dal dottore all'ospedale un'altra volta. E' una cinquecentesima volta a Tosso. Ciao.